Ciao a tutti, qui siamo alla chiesa di Costantinopoli a Baronissi ed oggi è la giornata Donare per Donarsi, organizzata dall'AIL. Il progetto consiste nel raccogliere sangue che potrà salvare decine di vite tramite donazione. AIL è un'associazione benefica che sostiene fin dalla sua fondazione le unità operative che si occupano di problematiche ematologiche e supporta la ricerca scientifica e i centri di ematologia clinica, donando le apparecchiature e gli arredi, finanziando le borse di studio di ematologhi, infermieri, biologi, biologi e psicologi, i quali insieme ai volontari conducono numerosi progetti. I fondi raccolti permettono alla ricerca di evolversi, consentono ai pazienti e ai loro familiari di poter contare su un adeguato supporto, garantiscono la formazione di tutte le figure che ruotano intorno alla malattia, ma soprattutto tengono viva la speranza di chi crede di non aver più un futuro. Prima l'AIL a Salerno non esisteva, ma grazie a Marco Tulumieri nacquero iniziative benefiche, simili a quelle che lui stesso aveva osservato quando era in cura all'ospedale di Roma, che diedero le basi per fondare una delle tanti sedi dell'associazione italiana. Grazie a tutti.